Cesaro Antimo. Colleghi, colleghi, posate questi fischietti. La votazione è annullata. Colleghi, chiedo ai commessi di intervenire. Chiedo ai commessi di intervenire. Rimuovete quei cartelli, se è possibile. Grazie. Grazie della collaborazione. Indico di nuovo la votazione sulla mozione Giancarlo, Giorgetti ed altri, numero 1439. Parere contrario del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Con 32 favorevoli, 303 contrari, la Camera respinge. Colleghi, rimuovete quei fischietti. Forza. Colleghi. Colleghi. Colleghi.